Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia per il nostro spazio di approfondimento dedicato quest'oggi alla Mideria Chiozza. Prima abbiamo già avuto un primo collegamento con David Zanirato che ci mostrerà appunto questo sito di archeologia industriale. Ne parleremo anche assieme al nostro ospite in studio Raffaele Caltabiano, buongiorno e benvenuto, che è il presidente dell'associazione Mideria Chiozza, nata qualche anno fa per dare un riconoscimento a questo sito, per valorizzare questo sito. Tra poco ci racconterà tutto, presidente, un saluto subito a Monica Nardini. Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Buongiorno Monica, subito qualche aggiornamento di cronaca. La notizia locale perché abbiamo appena saputo dal comando provinciale di Udine, dei vigili del fuoco, che verso le 5 di stamane è stato registrato un incendio arigolato all'inizio del paese a fuoco, uno stavolo andato completamente distrutto e anche i tetti sono stati appunto colpiti dalla fiamma, i tetti di due abitazioni vicine. Le notizie sono ancora in aggiornamento, per quanto abbiamo potuto sapere appunto si parla di danni ingenti, non di feriti, lo stavolo è completamente distrutto, i tetti si stanno cercando di quantificare i danni, le operazioni sono ancora in corso perché personale è arrivato da Rigolato, Cercivento, distaccamento di Tolmezzo, di Germone, c'è anche una Toscala arrivata da Udine e si pensa appunto che le operazioni dureranno nell'arco dell'intera mattinata. Dunque nel corso della giornata anche vedremo quali saranno gli aggiornamenti, ne daremo corso sia in questa diretta, se ci sarà modo, sia nel nostro notiziario serale. Grazie Monica per questo flash, per questo aggiornamento, adesso ci colleghiamo come ogni giorno con gli esperti dell'Osmer Arpa per le previsioni del tempo. Al telefono con noi oggi c'è Arturo Pucillo, buongiorno Arturo. Buongiorno a tutti. Abbiamo visto che qualcosa è cambiato nelle condizioni meteo, cosa dobbiamo attenderci per la giornata di oggi? Piero di sì, è cambiata, è cambiata la circolazione atmosferica, tutte le quote, non più da nord-est ma da sud-ovest stavolta, grazie all'ingresso di correnti atlantiche che portano, hanno portato già un peggioramento, abbiamo cielo da Nugolosa coperto oggi in regione, salvo qualche timida schierita sulla parte occidentale. Ci sono delle precipitazioni attualmente confinate all'estremo est della regione, poi in giornate interesseranno tutta la parte centro-orientale in maniera un po' più continua, specialmente provincia di Gorice e Trieste. Poi invece, in maniera più sporadica, le zone ridossero il confine col Veneto, qualche nevicata in montagna, 3-500 metri la quota, in salita poi a 6-700 in serata. Foschie, foschie che già adesso interessano diverse zone di pianura e costa, poi si affermeranno anche dense nel corso della serata, sempre naturalmente su pianura e costa. Temperature massime oggi saliranno intorno ai 5-6 gradi in pianura, fino a 7-9 gradi sulla costa, appunto più alte rispetto ai giorni precedenti. Anche la giornata di domani sarà analoga, c'è l'ingegnere da nuvoloso a coperto, precipitazioni più probabili verso est, più probabili continui verso est, ma non escluse anche ovest. Quota neve però più alta, 800.000 metri, con temperature che si affacciano verso i 9-10 gradi nei valori massimi, appunto sulla pianura e sulla costa. Essendo la quota neve più alta, chiaramente segno di uno zero termico che tende un po' ad alzarsi. Ci sarà una situazione caratterizzata da tempo umido e precipitazioni, probabili anche nei giorni successivi, verso il fine settimana, con alterne vicende, pioverà in maniera moderata, appunto su tutta la regione, con delle nevicate che dovrebbero alzarsi di quota ulteriormente, superando i 1.200-1.300 metri, appunto. L'aria più umite atlantica o mediterranea tende a farsi sentire in questa circostanza. Perfetto, grazie allora ad Arturo Puccillo per queste previsioni che ci hanno portato anche un po' in là in questa settimana. Grazie mille Arturo, ci risentiamo nei prossimi giorni. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Ritona dunque un po' di neve in montagna, benvenga per gli appassionati dello sci. Presidente, tra poco andremo dal nostro Davide Zanirato, che vediamo già pronto all'esterno della Mideria, per mostrarci questo sito di archeologia industriale, che come ci ha raccontato prima è rimasto attivo per più di un secolo, fino al 1986 se non sbaglio, per produrre amido, estratto dal frumento, dal mais o dal riso. La vostra associazione è nata qualche anno fa per cercare di preservare e valorizzare questo luogo, ci racconta un po'. Esattamente. La costruzione che adesso andremo a vedere, la parte principale di quel patrimonio industriale fondato da Luigi Chiozza nel 1865 e poi passato di mano per vari imprenditori è arrivato fino al 1986. Poi la fabbrica a fallire nell'86 rimase chiusa e viene acquisita successivamente dal comune, che oggi è proprietario dell'immobile. È una struttura molto importante, sono 10.000 m2 coperti, però la cosa particolare di questa struttura è che, per tutta una serie di fatti che alla fine sembrano molto strani, è rimasta nelle stesse condizioni in cui venne realizzata all'inizio del Novecento. Per intenderci all'interno della fabbrica ci sono macchinari risalenti alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, prodotti nei vari paesi dell'impero austro-ungarico, perché dobbiamo ricordare che Ruda era parte dell'impero austro-ungarico fino alla Prima Guerra Mondiale. Però penso che poi dall'interno vedremo meglio quello che c'è. L'obiettivo della vostra associazione è quello di salvare e valorizzare questo, che come dicevo è un grande patrimonio. Non è solo la fabbrica, non ci sono solo le macchine, c'è anche un archivio della fabbrica dal 1927 al 1976, ma soprattutto c'è il ricordo nella memoria di tante persone della zona che hanno lavorato e hanno lavorato per generazioni in un'area che era essenzialmente agricola, quindi poter lavorare in fabbrica significava avere una ritribuzione sicura, molto importante in molti momenti della storia. Certo, e allora adesso ritorniamo da Davide Zanirato, che vedo entrato nell'area dello stabilimento per questo nuovo collegamento. A te, Davide. Sì, Angela, eccoci qua. Ci siamo avvicinati alla Mideria Chiozza. Accanto a me il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, e uno degli storici dipendenti, Mario Perisin, che ci accompagneranno anche assieme al vice sindaco, tra poco alla scoperta di questo suggestivo stabilimento sindaco che, come dicevano, anche dallo studio è passato in mani del comune dal 1991, giusto? Sì, esatto. Il comune è diventato proprietario ai primi anni 90, 91, e da lì è nata l'avventura che ha legato le sorti, in qualche modo, di questo edificio a quella che è l'esperienza amministrativa del comune. Il comune, che è un comune piccolo, ricordiamo, ruda a 3.000 abitanti, e a trovarsi a, come dire, utilizzare per un primo tempo una struttura così importante, non è stato facile, non lo è tuttora. La mideria, ex mideria, questo complesso industriale che vedete, di cui parlavate in studio, è un complesso importante, grande. Abbiamo ospitato i magazzini comunali, la sede degli operai, ancora adesso è utilizzata una parte per avere, appunto, la possibilità di collocare i mezzi del comune, le officine del comune, e per un primo periodo gli spazi erano usati anche per fare attività di carattere culturale, venivano utilizzati gli spazi per fare delle mostre, delle attività anche come, diciamo, associative. E chiaramente man mano che l'età del complesso, come dire, perde in termini di sicurezza il suo valore, e dall'altra parte le esigenze di carattere normativo sono sempre più pressanti, adesso ci poniamo il problema se queste attività effettivamente possono permanere lì o in alcuni casi devono essere portate via. Dall'altra parte il comune ha cercato nel corso di questi anni di fare degli interventi, o in proprio, con le poche risorse che ha, ma soprattutto cercando quei finanziamenti, attraendo quei finanziamenti che potevano consentire dei piccoli interventi di salvaguardia, per esempio del tetto o di alcune parti della mideria. Era la legge 24 che consentiva questa specie, soprattutto, di attingere a questi finanziamenti, che era la legge sull'archeologia industriale, poi non più finanziata. Nel corso del 2000, per esempio, in occasione del giubileo, si è fatta, come dire, la domanda, si è corso anche quell'ipotesi per recuperare dei fondi che potevano riconsiderare la struttura anche per altre funzionalità, come l'accoglienza, piuttosto che una parte chiaramente museale, che questo permane come obiettivo nel tempo. Purtroppo anche in quelle occasioni i finanziamenti europei sono andate a essere, come dire, vane, nel senso considerate buone come idee, ma non finanziabili. Un percorso ad ostacoli dunque molto difficile, ne ritorneremo a parlare tra poco. Con Mario Perissing iniziamo anche ad introdurci alla storia, alla nascita di questo polo. Proprio qui vicino passa una roggia. Che significato ha avuto questa roggia? Passa la roggia alla fredda e il significato è stato che la scelta dell'ubicazione dello stabilimento è stata appunto in questa zona, in quanto passavano questa roggia con le acque perfette, pulitissime, da sorgenti. Le sorgenti si trovano a pochi metri da questa zona. Infatti all'origine, oltre alla qualità dell'acqua, era anche la forza motrice per il mulino che noi all'origine troviamo qui sulla nostra sinistra. Acque fondamentali per il processo di lavorazione. Processo di lavorazione che ha fatto sorgere una qualità del prodotto finito di qualità eccezionali. Si ritiene, è stato constatato, che le acque sono state fondamentali per il processo di lavorazione. A poche centinaia di metri, inoltre, sono state trovate tracce dell'acquedotto che forniva aquilea. Quindi confermata la qualità dell'acqua, fondamentale appunto per tutto il processo di lavorazione. Grazie a Mario Perissina, al sindaco Lenarduzzi. Ritroveremo loro tra poco e ci sposteremo proprio all'interno dello stabilimento. A voi studio. Grazie Davide. Allora in attesa di entrare all'interno della Mideria Chiozza, Monica c'è qualche aggiornamento? Siamo sul sito innanzitutto dell'associazione, l'avevo predisposto, in cui è possibile riporcorrere parte della cronistoria che appunto continueremo ad approfondire nel corso della nostra diretta e poi vedremo anche c'è la sezione progetti, una sezione con tantissime immagini, vediamo anche l'immagine che ci accolgono subito nel sito, un'immagine storica. Tra poco parleremo di tutto questo. Abbiamo visto anche, Presidente, nelle immagini che andavano in onda prima, oltre a un video che si può vedere tra l'altro anche sul vostro sito, delle immagini proprio storiche, una foto di uno stabilimento dall'alto, sono immagini che avete recuperato da dove? Sì, in effetti abbiamo in questi anni, grazie anche ad attività iniziate prima da molti volontari di ruda, raccolto tantissima documentazione, documentazione grafica come queste foto che stanno passando, questo per esempio, quello che si vedeva prima era il porto di Cervignano, perché, ecco questa qua, il porto di Cervignano perché importante era far arrivare la materia prima, lo stabilimento di Perteole e trasportare poi il prodotto finito e questo avveniva via mare, perché da Cervignano veniva trasportato via mare e poi direttamente a Trieste. Poi è stato lo stesso Chiozza a iniziare le attività per la realizzazione della ferrovia che collegava Trieste a Cervignano. Parliamo della fine dell'Ottocento. Oltre al materiale, queste sono delle foto degli anni 30, quindi diciamo che c'è un po', ecco, si vedono, si vedono... Questi sono i sacchi di riso, esatto, i sacchi di riso, i sacchi di riso, sì, inizialmente Luigi Chiozza provò col mais, ma poi mise appunto un processo col riso, ottenendo, come diceva appunto Mario Peressin, grazie anche alla qualità dell'acqua. Io aggiungerei anche alla qualità dei lavoratori che per generazioni si tramandavano le modalità per lavorare e sono riusciti negli anni a realizzare un prodotto di altissima qualità, esportato in tutto il mondo e tuttora ricordato positivamente dai clienti di allora. Le racconto questa, noi come associazione col sito appunto attraiamo, siamo visti, non più di due mesi fa ho ricevuto una mail, abbiamo ricevuto una mail di una ditta, di una società che produce guanti a Napoli che utilizzava dei prodotti dell'amideria Chiozza e sperava, avendo visto il sito, che l'amideria fosse tornata la ditta produttiva per riacquistare i prodotti. Quindi diciamo che è un marchio che è rimasto anche sul mercato ancora vivo. Ma c'erano anche un articolo del Messaggero Veneto proposto a novembre che è proprio rattitolato Fiat, Plasmon, L'Oreal e Angelini, super clienti dalla Fiat alla Ferrero, dalla L'Oreal alla Plasmon, dalla farmaceutica dunque Angelini alla Crispo. L'industria voleva l'amido prodotto in Friuli, era il migliore sul mercato e ci sono appunto varie curiosità. L'industria automobilistica per esempio lo utilizzava per produrre le terre di fonderie, l'industria di cosmetici per le ciprie, l'industria alimentare per i biscotti e i confetti, la farmaceutica per le pastiglie, dunque fino agli anni Ottanta l'amideria Chiozza esportava all'amido in tutta Europa e anche oltreoceano come appunto si fa presente oggi. Ricordando tutto questo e parlando anche del futuro, vero? Certo, è un futuro che come diceva anche il sindaco è abbastanza complesso. Noi come associazione diciamo che siamo motivati, siamo mossi dalla passione, dal sogno e dalla volontà di fare. Queste sono le tre parole. La passione perché evidentemente siamo tutti volontari e lo facciamo perché in un modo o nell'altro siamo rimasti coinvolti, ma proprio in termini di passione. Adesso vedrete all'interno da questo sito. Il sogno è cercare di rendere almeno, salvare almeno una parte di questa enorme struttura, la parte che contiene le macchine, che come dicevo è la parte più interessante, perché tra l'altro è forse una delle rarissime testimonianze tuttora presenti in Europa della prima rivoluzione industriale. Le macchine che vediamo, parliamo di Industria 4.0 adesso. Bene, questa è Industria 1.0, tuttora presente, quindi è un patrimonio molto importante. La volontà di fare è cercare di, con le risorse che ci sono e trovando le strade più opportune, per, diciamo, di supportare l'amministrazione comunale in questa opera che sicuramente è complessa e difficile di salvare e valorizzare questo patrimonio. Torniamo da Davide Zanirato adesso per un nuovo collegamento. Li vedo ancora all'esterno della struttura. Davide, a te. Sì Angela, ci siamo introdotti all'interno del complesso della Mideria. sempre con i nostri amici di Ruda. In questo caso, cosa possiamo vedere alle nostre spalle? Dunque, abbiamo lo stabilimento che si compone in due blocchi. Dietro a me, la parte che consisteva nella lavorazione è umido, mentre sulla mia destra, l'essicazione, sicatoi, eccetera. La superficie coperta dello stabilimento è di 7.700 metri quadri, quindi notevole. Però la lavorazione avveniva anche su tre piani, quindi possiamo considerare superficie adibita alla lavorazione di oltre 20.000 metri quadri. Quindi adesso entreremo nei vari reparti per descrivere qualcosa in merito. Uno stabilimento, sindaco, che nel massimo della sua espansione è riuscito ad occupare oltre 100-120 persone, giusto? Sì, nel corso della storia ha avuto anche 120 persone impiegate. Poi, come si discuteva anche con il nostro storico funzionario tecnico della Mideria, pian piano si è spento fino ad arrivare a una ventina di persone e poi praticamente le sorti sono chiuse là, insomma. Allora andiamo all'interno ora, tra poco. Perfetto Davide, allora tra poco entreremo finalmente a vedere questa Mideria, queste macchine storiche di Industria 1.0, come ci ha detto il presidente dell'associazione Mideria Chiozza, che dicevamo, è nata qualche anno fa, proprio per cercare di valorizzare, preservare e conservare questo sito. Avete avviato dei progetti, avete avviato un master plan, come vi siete mossi, come vi state muovendo? Allora, ci stiamo muovendo su diverse direzioni, chiaramente una direzione importante è quella di salvare quello che si può oggi già salvare e questo è stato fatto, per esempio, con l'archivio, che è stato messo in sicurezza. E poi abbiamo cercato di trovare le strade che permettessero di individuare le forme per studiare e valorizzare questo patrimonio. E questa strada l'abbiamo trovata nella collaborazione con l'Università di Udine, prima con l'Università di Trieste, poi. In effetti abbiamo in corso una collaborazione con entrambe le università. Con Udine, specificatamente nel settore della conservazione dei beni storici, per quanto riguarda l'archivio. Quindi l'archivio è stato oggetto di studio da parte di parecchi giovani studenti e oggetto di tesi di laurea. Dopo andremo anche a vedere qualcosa di tesi di laurea. Analogamente con l'Università di Trieste, lo scorso anno, l'Università di Udine, la Facoltà di Architettura di entrambe le università, è stato concordato e quindi la mideria è diventata oggetto dello studio del quarto anno come laboratorio di restauro. Questo significa che la mideria è stata di fatto visitata per diversi giorni da oltre 180 ragazzi delle due università che hanno fatto le classiche attività previste per iniziare un'attività di restauro. Quindi il rilievo, le fotografie, le misure e hanno predisposto tutta una serie di elaborati estremamente importanti che sono poi stati utilizzati per definire un master plan, elaborati che molto probabilmente saranno oggetto di un convegno, di un'esposizione che pensiamo di fare all'inizio dell'estate di quest'anno. C'è anche... Ah, vediamo Davide Zanirato che è già entrato. E allora andiamo subito, andiamo subito da Davide per iniziare a mostrare questa mideria. Te? Sì Angela, è davvero suggestivo, incredibile entrare all'interno di questo stabilimento. Signor Mario Perisin, in questo caso siamo al termine del processo finale. Il processo finale è umido, ossia le rotture di riso partono da un processo di macerazione, macinazione, decantazione nelle vasche di decantazione appunto e in seguito, dopo un trattamento con ganidride disolforosa per rendere puro e preservarlo da muffe, arriva in questo reparto. Reparto disidratazione, ossia il liquido d'amido viene inserito in questi cubi che noi vediamo. Sono cubi di pietra. Cubi, sono i cubi, sono che contengono poi il nostro liquido. C'è un'aspirazione sotto vuoto e tira via una parte dell'acqua. Da questo reparto poi andrà all'essicazione e siamo poi nel reparto a secco, a seguito, che verranno poi fatti gli imballi, le confezioni, eccetera, eccetera. Che poi daremo un'occhiata anche in quel senso. Allora siamo pronti a spostarci perché ci sono davvero tante cose da farvi vedere. Rimanete con noi. Abbiamo visto che è rimasto davvero molto dello stabilimento in attività. Pensavo non ci fossero ancora tutte queste strutture. In realtà il grado di conservazione è buono per quanto riguarda i macchinari, l'apparecchiatura utilizzata. Sì, il grado di conservazione è buono e di fatto, come avete visto dalle riprese, è rimasto tutto così, come se fosse per un colpo di bacchetta magica rimasto intatto. Nel reparto che abbiamo visto prima lavoravano soltanto donne. Nella fabbrica la maggioranza del personale era femminile, veniva soprattutto impiegato nei lavori meno pesanti. In quel reparto venivano confezionati dei cubi di amido. Da queste operatrici poi venivano incartate e mandate all'essicazione. Mentre in altri reparti, che probabilmente adesso andremo a vedere, il personale era maschile. Appunto la fabbrica nel suo massimo splendore aveva superato i 100 dipendenti e molto probabilmente era la fabbrica più grande di amido nell'impero austro-ungarico. Se non sbaglio, a proposito di donne, a livello di normativa anche dei lavoratori, era anche parecchio avanti. Per esempio per le donne appena diventate mamme c'era la possibilità di stare a casa più del tempo, rilasciato in altre realtà. Infatti, parliamo di un regolamento, si chiama regolamento del lavoro, datato... Dovremmo vedere le immagini, Presidente, del regolamento di questo libro che è stato trovato. Esatto, datato 1902 e quindi in effetti si poneva particolare attenzione al personale, non solo al personale femminile come giustamente ricordato la signora, ma anche a chi doveva poi, diciamo, studiare, tra virgolette. Lo studio allora non era molto... sicuramente non era obbligatorio, però la mideria a Chiozza aveva pensato anche questo e dava dello spazio anche ai giovani. E quindi anche c'era un'età al di sotto la quale anche non si scendeva rispetto all'epoca, aveva un altro aspetto. Ma c'erano anche i bambini che lavoravano e questa è la realtà dell'inizio del secolo. Ritorniamo da David Zanirato che nel frattempo si è spostato, è andato in un'altra area dello stabilimento e vediamo che ha in mano un marchio forse della mideria. Vediamo se riusciamo a collegarci perché le immagini non sono proprio perfette quanto a qualità, ma noi ci proviamo. Davide, date la parola. Sì Angela, eccoci qua, ci siamo spostati all'interno di un'altra area in questa struttura della mideria. Questo è un sacco con il logo storico, giusto? Un logo storico, esatto. In questi sacchi contenevano il macinato che poi vedremo al nostro fianco qua, il mulino, importante anche questo per il nostro processo di lavorazione. In questo spazio che cosa si realizzava? Siamo al reparto specialità. Alla mia destra abbiamo dei contenitori che venivano introdotti i cristalli di amido che dopo una miscelazione, una movimentazione di due o tre ore uscivano dei veri e propri confetti, bellissimi da vedere. Facevano parte del prodotto più prezioso dell'amideria, era l'amido termalis, amido da bagno, sempre su tutti i mercati più importanti. In Italia l'ho trovato a Milano e in altri posti molto molto suggestivi. Quindi un prodotto veramente di chicca, come si vuol dire. Sindaco Lenarduzzi, intanto appoggiamo il sacco, ci raccontava prima che il lavoro che avete cercato di portare avanti in questi anni è anche e soprattutto quello di tutelare la copertura affinché non crolli. Sì, gli interventi principali hanno riguardato proprio la copertura perché quando l'infiltrazione d'acqua comincia a entrare provoca appunto il malauramento delle strutture. Qua gran parte delle strutture sono in legno, sono dei gessi e quindi pian piano l'infiltrazione d'acqua provoca il crollo del marcimento e il crollo della struttura. Quindi era fondamentale intervenire prima di tutto su questo. Adesso, come vedremo tra poco, stiamo cercando, lavorando assieme all'associazione Mideria e collaborando con l'università, anche di intervenire su altre parti che sono soprattutto la macchina a vapore che tra poco andremo a vedere. E allora siamo pronti per andare alla macchina a vapore? Ancora un momento, alle nostre spalle abbiamo una pressa che anche qui era un prodotto molto molto ricercato. Ci spostiamo noi un po' più a destra così il nostro Andrea Simeoni riesce a rinquadrarlo. Il prodotto finito erano delle tavolette uso stireria che poi noi vedremo nel nostro campionario, il prodotto finito. Perfetto, allora tra poco per andare alla scoperta del mulino. Grazie allora a Davide Zanirato anche per questo collegamento. Presidente, prima di andare in pubblicità, diceva il sindaco degli interventi che sono stati fatti per mettere in sicurezza il tetto, innanzitutto, e proteggere la struttura. Voi vi siete agganciati, diciamo così, anche al FAI per cercare di richiamare l'attenzione su questo sito. Come sono andate le cose? A che punto siete? Come dicevo abbiamo cercato di far conoscere questa realtà perché abbiamo scoperto dall'inizio che questa realtà era poco nota, ma poco nota a Cervignano del Friuli, quindi a tre chilometri di distanza. Figurarsi se ci spostavamo a distanze maggiori e quindi l'abbiamo fatto facendo delle attività comunque locali. Poi già due anni fa avevamo tentato con l'iniziativa I luoghi del cuore del FAI raccogliendo un certo numero di firme. Quest'anno, grazie alla validissima collaborazione degli associati e all'accordo preso col FAI, siamo stati presenti in 23 del gran numero di località in cui il FAI aveva posizionato dei banchetti per raccogliere le firme. Questo ci ha permesso di raccogliere le firme per questa iniziativa I luoghi del cuore del FAI, ma ci ha permesso anche di far conoscere a tantissime persone questa realtà. E questo penso che possa essere un altro modo per andare verso la valorizzazione. Anche al mulino dell'attività dell'associazione, visto che ormai... Sicuramente è per valorizzare. Tra poco andremo a vedere. E da questo ci aspettiamo anche in effetti che si possa poi ottenere anche dei finanziamenti aggiuntivi da parte del FAI. Penso che poi il sindaco ci racconterà anche di quanto la regione sta facendo in questo momento. Beh, ha dato un contributo importante, mi pare, proprio per recuperare l'archivio, no? Poi andremo anche a... La macchina a vapore, perché adesso andremo a vedere, penso. Allora, avevo pensato... No, siamo al mulino. Avevo pensato di andare in pubblicità, però andiamo, torniamo da David, che vedo pronto davanti al mulino. Questo è il mulino. Se il collegamento è abbastanza buono, io direi che possiamo passare la linea a David. A te, David. Sì, Angela, eccoci qua allora. Lo splendore continua qui all'interno dell'amideria Chiozza. Mario, eccolo qua, il mulino. Sì, siamo al mulino, ossia l'amido, dopo essere stato ai disidratatori essiccato, veniva macinato in parte. Siamo al mulino, un mulino che dagli operai era chiamato Hamburgo, perché una targhetta su un'asse riportava la fabbrica che era di Hamburgo, che l'aveva costruito. Quindi qui il macinato era un prodotto impalpabile, finissimo, e uno dei maggiori clienti per questo prodotto erano gli Stati Uniti. Avevamo un importante cliente a New York che portava via delle camionate, delle vagonate intere con frequenza di qualche mese durante l'anno. Quindi un importante cliente. Altri usi erano l'amido per dolci, in polvere e anche per ciprie, per cosmesi, eccetera. Quindi siamo in un reparto molto, molto importante e anche ancora ben mantenuto. Siamo quasi perfetto, potrebbe funzionare domani. Infatti ricordavano anche dallo studio, sono stati tantissimi clienti di prestigio in tutto il mondo, di questo stabilimento. Indubbiamente, indubbiamente, in tutto il mondo veramente. In Europa, da notare che era la maggior amideria d'Italia, è una delle più importanti d'Europa, per la sua qualità del prodotto finito. Io ho ricevuto una telefonata da un'importante industria italiana, il laboratorio chimico di questa industria. Mi ha detto, ma vi rendete conto che voi avete il prodotto più puro che esiste sul mercato? Effettivamente era così. Allora, noi tra poco ci sposteremo nell'ultima sezione di questo stabilimento per mostrarvi ancora tanto, ma rimanete con noi a tra poco. Grazie allora Davide Zanirato, noi andiamo velocissimamente in pubblicità, poi saremo di nuovo in diretta per continuare a raccontarvi e a mostrarvi l'amideria Chiozza. Rimanete con noi. Eccoci di nuovo insieme, ingegnere, per quest'ultima parte di Buongiorno Friuli, per continuare questo nostro approfondimento dedicato alla Mideria Chiozza di Perteule, questo stabilimento storico che è stato fondato nell'Ottocento e rimasto in attività fino al 1986. Tra poco ritorneremo anche dal nostro Davide Zanirato che ci mostrerà questa macchina a vapore, il cuore, uno dei cuori di questo stabilimento. Monica, però ci sono degli aggiornamenti. Sì, nel sito del TG Camo24, per scorrere alcuni degli ultimi titoli usciti, innanzitutto si parla di un blitz antidroga nel napoletano, 86 arresti nel clan Puccinelli e poi la notizia riguardante il mondo del cinema, Pedro Almodovar, presidente del Festival di Cannes, ma soprattutto si continua a parlare degli Stati Uniti, delle scelte, il nuovo presidente statunitense Donald Trump. Il titolo che leggiamo assieme è questa rimozione anche del direttore dell'ufficio Immigrazioni e Dogane, dunque personalità nominata dal predecessore di Trump, Barack Obama. Come sappiamo, la Casa Bianca non ha fornito motivazioni per il momento di questa sostituzione, annunciata tra l'altro poco dopo la rimozione del segretario alla giustizia di Interim Yates che si era appunto opposta al decreto presidenziale che impone restrizioni agli ingressi negli Stati Uniti. A proposito delle restrizioni, vediamo anche questo titolo rispetto al bando di Trump che parla di 42 persone trattenute all'aeroporto JFK che sono state rilasciate rispetto a molte altre trattenute proprio a causa della stretta sull'immigrazione contenuta nell'ordine esecutivo emanato venerdì scorso dalla presidente Donald Trump, questo appunto per la situazione riguardante l'aeroporto. Grazie Monica anche per questi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, dal mondo in questo caso. Adesso ritorniamo apertevole perché vedo David pronto assieme ai suoi ospiti in un altro luogo di questa amideria. Te David. Sì Angela ci siamo trasferiti al piano terra e abbiamo fatto un passo indietro nel processo produttivo, è vero? Esatto, infatti qui siamo alle vasche di decantazione e dunque il nostro prodotto arrivava alle vasche di decantazione ossia materia prima e rotture di riso, rotture di riso che dopo la macerazione e la macinazione passavano al reparto lavanti che si trova sopra i dosi, reparto lavanti che avveniva la separazione delle sue componenti principali quali amido, semolino e glutine. Qui arrivava l'amido, quindi nelle nostre vasche appunto che troviamo nelle spalle di decantazione avveniva poi una raccolta per essere inviato i disidattatori che eravamo alcuni momenti fa in Corriere. Un problema con l'audio, con il collegamento da aperteole forse scesi nella parte più bassa dello stabilimento, i muri spessi stanno ostacolando un po' la trasmissione del segnale. Allora in attesa di ritornare da David Zanirato, Presidente, io approfitterei di lei per farci raccontare un episodio che ci ha anticipato prima mentre eravamo in pubblicità, un episodio che riguarda la storia di questa amideria, un episodio che vi ha fatto riscoprire un aspetto particolare della storia di questo stabilimento che, e qui chiedo l'aiuto anche alla regia, qui chiedo appunto di recuperare le immagini del vecchio ospedale, eccole, le vediamo. L'amideria durante la seconda, la prima guerra mondiale è diventata un ospedale, un ospedale da canto. Sì, in effetti come vedete da questa foto, questo è l'ingresso dello stabilimento. non c'è più scritto stabilimento, è diventato ospedale da campo 014. Siamo all'inizio della partecipazione dell'Italia alla prima guerra mondiale, consideriamo che lo stabilimento si trova a 3 km da Cervignano ed è stato una delle prime cose conquistate dagli italiani il 24 maggio. E' trasformato quasi subito in ospedale da campo, era uno dei tanti ospedali che erano stati realizzati in quella area subito a ridosso della linea di fuoco e questo era l'ospedale numero 14 con 100 posti letto. Il fatto storico che abbiamo scoperto di fatto è legato alla lotta di Caporetto. L'ospedale era in funzione chiaramente nel 17 ed operavano all'interno, oltre il personale della sanità militare, come si può vedere dall'immagine che alle mie spalle, operavano anche le crocerossine volontarie. C'erano 3 crocerossine volontarie. Alla lotta di Caporetto tutti questi ospedali sono stati evacuati, evacuati nel termine che i trasportabili venivano portati in altre località. Però molti dei soldati e dei militari erano in condizioni che non consentivano assolutamente il trasporto. E quindi venivano lasciati ad aspettare l'arrivo degli austro-ungarici. Così anche 3 crocerossine che lavoravano all'interno di questo ospedale decisero di non abbandonare i loro assistiti e di praticamente cadere nelle mani degli austro-ungarici che le presero prigioniere e le internarono nel campo di concentramento di Katzenau in Austria. Malgrado i tentativi della crocerossa internazionale, allora solo dopo 6 mesi queste 3 crocerossine vennero liberate e di fatto costituiscono uno dei primi casi di mancato rispetto degli accordi di Gineva. Poi queste 3 crocerossine ottennero le massime onorificenze da parte della Crocerossa internazionale. Questo è un altro pezzo di storia passata dalla Mideria. Dalla Mideria, quindi una storia quella della Mideria che ci aiuta a conoscere anche altri aspetti della storia, quella con la S maiuscola, diciamo così, mentre stiamo vedendo altre immagini della macchina a vapore, è giusto? Quando era in funzione. E' questa, quando era in funzione. Oppure all'interno degli operatori che lavoravano. Queste, Presidente, erano le... Queste erano la zona delle vasche dove prima ci parlavano da Ruda, parlava per il SIN e qui quando la fabbrica era in funzione c'erano appunto degli operatori che portavano tramite questi carrelli perché la fabbrica era dotata anche di sistemi di movimentazione all'interno sia di orizzontale, quindi con carrelli, sia verticali con dei montacarichi, tutti azionati a mano, evidentemente, data l'epoca, però era molto moderna per, diciamo, per la sua epoca, ecco, molto innovativa. Sicuramente, qua vediamo appunto i sacchi di prodotto pronti per il mercato. Altre lavoratrici? Queste foto, Presidente, risalzano forse agli ultimi periodi. Esattamente, gli ultimi periodi, come vedete l'ambiente era anche molto pulito, vabbè, per forza, era bianco. Rendeva tutto bianco. No, ma anche c'erano delle grandi finestre. C'era luce. Sì, infatti c'era luce, sì. Abbiamo visto tanti bei locali in questi nostri collegamenti, precisiamo però subito una cosa, Presidente. Al momento non si può visitare ancora nessuno di questi locali, proprio perché ci sono dei problemi di sicurezza. la fabbrica non è visitabile. Stiamo lavorando in questa direzione, speriamo... Vediamo anche un titolo del Messaggero Veneto relativo a fine dicembre, proprio sulla necessità di pensare a un progetto complessivo, di intervenire il prima possibile, ovviamente, per tutelare questo complesso. Iniezioni di fondi dalla Regione per salvare la Mideria. Altri 120 mila euro per mettere in sicurezza il locale che rischia di crollare, proprio sull'antica macchina a vapore. Ma per recuperare l'intero sito, ricordava appunto anche il Messaggero Veneto, serve un progetto dunque complessivo, come si accennava. E quindi queste immagini che vi abbiamo fornito oggi sono ancora più preziose, perché non si può entrare, diciamo così, all'interno di questo sito, all'interno della Mideria. Allora, in attesa di collegarci di nuovo con David Zanirato, che sta andando verso la macchina a vapore, Presidente, ci diceva prima dell'archivio che avete recuperato e sistemato, perché visti i tempi, non so se riusciamo ad andare oggi anche a vedere l'archivio. Potrà essere oggetto di un'altra. L'avevamo messo in programma, però poi dobbiamo fare i conti con i tempi che corrono veloci, velocissimi. L'archivio dove si trova? A Saciletto? Sì, l'archivio è stato trovato innanzitutto all'interno della fabbrica da dei volontari, ma questo già quasi dieci anni fa. C'erano degli scatoloni, questo materiale è stato portato fuori dalla fabbrica, perché abbiamo visto che ci sono problemi all'interno anche di... dovuti a perdite del tetto, eccetera, e si è incominciata una prima sistemazione e catalogazione. La cosa poi è diventata più razionale, organizzata, con la collaborazione con l'Università di Udine e poi con la disponibilità anche da parte dell'amministrazione comunale di metterci a disposizione di un locale a Saciletto, dove, che abbiamo chiamato Spazio a Mideria, forse in maniera altisonante, ma che comunque vuole essere un benaugurale, diciamo, e che è un contenitore di fatto questo Spazio a Mideria, è un contenitore, un contenitore dove abbiamo oggi tutto l'archivio, che ripeto è l'archivio della fabbrica dal 1927 al 1976, quindi 50 anni di archivio, è un archivio importante perché la fabbrica apparteneva alla nuova pilatura di riso triestina, quindi all'interno di questo archivio ci sono tante testimonianze storiche non solo della vita, della produzione, ma anche di rapporti industriali con il mondo triestino. All'interno del contenitore di questo Spazio a Mideria abbiamo anche una prima parte di museo, per esempio alcune, abbiamo una collezione di etichette, queste che vedete alle mie spalle sono le etichette di alcuni dei prodotti che venivano realizzati. Poi magari chissà, forse li vedremo, perché Davide mi dice che magari riescono, che forse riescono ad andare anche all'archivio. Vedremo, vedremo, allora intanto a Davide, la linea adesso per questo collegamento, siete vicini alla macchina a vapore, Davide? Giusto Angela, ce l'abbiamo fatta, abbiamo ripristinato il collegamento, allora eccola qua, questo gioiellino, Mario. Ok, siamo appunto nel reparto della nostra motrice a vapore, qui alla sinistra, mentre a destra avevamo appunto l'officina meccanica, l'officina meccanica che soperiva tutte le esigenze dello stabilimento, da pensare che tutto lo stabilimento è con cinghie, pulegge, cuscinetti, eccetera, quindi serviva molta manutenzione, mentre alla sinistra abbiamo la nostra motrice a vapore, motrice a vapore che faceva funzionare tutto lo stabilimento con cinghie e pulegge, quindi fondamentale, importante, ha funzionato fino al 1986, al momento di chiudere lo stabilimento, quindi ininterrottamente, anche giorno e notte, quindi veramente un qualcosa da riportare alla realtà iniziale. Sindaco, per salvaguardare questo e anche gli spazi precedenti che abbiamo visto, avete fatto alcuni accordi di programma importantissimi, fondamentali? Sì, abbiamo stipulato un accordo di programma con la Regione proprio per salvare questa struttura, questa parte di struttura che contiene il cuore, come diceva Mario, dell'intero complesso industriale. Un accordo di programma che consiste in una prima fase, in una progettazione e nella seconda fase proprio nell'intervento materiale, perlomeno andando per parti, mettere in salvaguarda alcune cose, come abbiamo visto la parte del mulino, della barchessa in legno, quella lì è stata a suo tempo salvata con un finanziamento regionale. Si spera che in questi accordi si muova qualcosa, perlomeno per salvare l'esistente, poi confidando in qualcosa di più grosso per il futuro, perché il complesso è veramente importante e molto grande. Allora noi proviamo ad andare verso l'archivio, a tra poco. Grazie allora Davide Zanirato anche per questo collegamento, allora tra poco ci rivediamo all'archivio, Presidente ci provano, vediamo se riusciamo a mandare in diretta anche alcune immagini dell'archivio. Abbiamo visto, abbiamo intravisto questa macchina a vapore che ci diceva che è il cuore pulsante di questo stabilimento che è rimasta in attività continuativamente dal 1902, quando è stata messa in opera, al 1986. È una macchina costruita nell'attuale Slovacchia, a Brno, non abbiamo visto ma c'è una bellissima targa che contiene il nome della fabbrica che la produceva e questa è una delle testimonianze dell'industria 1.0. La rivoluzione industriale è passata attraverso una forma di energia diversa dall'acqua, che abbiamo visto essere stata la prima forma di energia, che era appunto la macchina a vapore. E pensare di avere tuttora in sito una macchina del genere, quando ritorno, ricordiamo, parliamo di 4.0, è qualcosa di estremamente importante e obiettivamente, come diceva anche il sindaco prima, bisogna fare tutti gli sforzi per salvare questo perché effettivamente è un patrimonio importantissimo. Monica? Ci sarebbero tante curiosità da dire anche su Ligi Chiozza, sulla sua vita che è stata molto intensa, ovviamente densa di successi, ripercorrete anche la storia del fondatore della mederia negli spazi del sito, come vediamo. Nacque a Trieste nel 1828, morì a Scodovacca nel 1889, ma girò anche il mondo, fu molto amico di Pasteur, si ricorda tra le molte curiosità e poi ci sono anche dettagli tecnici su molte delle scoperte che fece, che ovviamente invito ad andare chi fosse interessato, ma ovviamente ci sono tante curiosità a ripercorrere attraverso le pagine del sito, abbiamo visto anche l'immagine, mi sembrava doverosa, ricordando questo suo grande successo della mederia. Anche perché è uno dei personaggi importanti, diciamo così, della nostra regione. È un personaggio importante, forse anche lui non molto conosciuto, vabbè, se si gira nella zona di Cervignano, Ruda, si incontrano molte strade intitolate a Luigi Chiozza. Però chi era Luigi Chiozza? Ecco, Villa Chiozza, per esempio, oggi sede di Turismo FWG, era l'abitazione di Luigi Chiozza. Questo signore, che di origini triestina, come ha ricordato la signora prima, si spostò in campagna dopo la morte della giovanissima moglie e pensò di dedicarsi a cosa? Essenzialmente era un imprenditore agricolo, aveva grandissime proprietà, però era senz'altro interessato alle nuove tecnologie. Parliamo della fine dell'Ottocento e andò a studiare chimica industriale a Parigi, in Francia, è lì che conobbe Pasteur. Ma la chimica alla fine dell'Ottocento era la tecnologia di punta, come oggi può essere l'informatica, per intenderci. Era la tecnologia di punta e lui cercò di applicare le sue conoscenze al mondo dell'agricoltura, realizzando di fatto una filiera, perché è partito dall'agricoltura, dalla produzione di riso, che in quella zona si produceva riso, alla realizzazione di un prodotto, l'amido, e alla sua esportazione a livello mondiale, vendendolo come abbiamo sentito in tutto il mondo. Quindi una grande capacità imprenditoriale e anche tecnica. Chiozza non è, forse nella nostra pagina lo è, non è ricordato, ma ha fatto anche delle scoperte importanti nella chimica. È rimasto un pochettino così nascosto, però è un personaggio importante che ha vissuto in Friuli Venezia e Giulia della bassa Friulana. È che forse è l'occasione per riscoprire anche attraverso questa amideria. In attesa di andare nell'archivio della amideria Chiozza. Monica, approfittiamo di questo momento per l'agenda del giorno, andiamo a vedere un po' quali sono gli appuntamenti principali di oggi, fra teatro, proiezioni cinematografiche, incontri. Allora, iniziamo con il teatro, con il doppio appuntamento di questa settimana, previsto nel circuito Earth, con lo spettacolo scandalo. La pièce di Artur Schnitzel, diretta da Franco Però, interpretata da Franco Castellano e Stefania Rocca, che vediamo in queste immagini, sarà in scena questa sera al teatro Zancanaro di Sacile e domani al teatro sociale di Gemona. Entrambe le serate inizieranno alle 21. Scandalo ritornerà in regione anche giovedì 2 marzo al teatro Modena di Palmanova. Passando al cinema, invece in occasione dell'anniversario della sua prima proiezione pubblica, il 31 gennaio del 1963 al cinema centrale, torna eccezionamente in sala per una sera soltanto e con i sottotitoli in inglese, gli ultimi di padre Davide Maria Turoldo e Vito Pandolfi, il film manifesto sulla vita dei contadini nel Friuli degli anni 30. L'appuntamento è questa sera alle 20 al cinema centrale di Udine. E poi invece un appuntamento per questo pomeriggio a Pordenone all'auditorium di casa Zanussi e comincia il ciclo di incontri dedicato ai narratori d'Europa promosso dall'IRSE. In programma un doppio incontro con l'editorialista Roberto Bertinetti che abbiamo visto, che vediamo in questa foto. Il primo incontro alle 15.30 sarà dedicato all'autrice inglese Angela Carter, il secondo invece alle 18.30 insieme alla presidente dell'IRSE e Laura Zuzzi affronterà un tema caldo, quello della Brexit e dell'Europa fra paure e generazioni Erasmus. E infine un appuntamento che riguarda invece lo sport, la Basketball House al centro commerciale Città Fiera. Alle 18.30 ci sarà un incontro, conferenza con Alice Sabatini, Miss Italia 2005, Giacomo Jack Galanda, ex capitano della Nazionale di Palla Canestro e Ashley Green, responsabile degli eventi di FIBA. Angela, il fatto culturale mi ha dato uno spunto anche per parlare di un'iniziativa per riproporre anche a teatro la storia della Mideria Chiozza perché a luglio, se non sbaglio, è stato proposto lo spettacolo. Vediamo la locandina proprio inserita nel sito dell'Associazione Amida, due madri e una fabbrica. Anche questa è una maniera creativa di ripercorrere la storia di quello che fu e di guardare comunque al futuro per riparlarne, giusto? Esattamente, l'idea è stata quella di cercare di conservare e far conoscere anche l'esperienza di chi ha lavorato, la storia di chi ha lavorato all'interno della fabbrica. Ripeto che la fabbrica aveva un centinaio di lavoratori ed è andata avanti per tantissimi anni. Però si è scelto di focalizzare il punto di vista sulle storie al femminile, due madri, no? Tantissime storie, tantissime storie che potrebbero andar perse nel tempo. Quindi abbiamo cercato di salvarle in questo modo. Con la collaborazione di Carlo Tolazzi è stato scritto un pezzo, una pièce teatrale, un atto unico, due madri e una fabbrica, che racconta la storia, ma non vi racconto il finale perché dovete andarlo a vedere. Ci saranno altre date proposte, abbiamo visto questa ad estiva, ma ci saranno altre date che possiamo rilanciare. Dicevo che racconta la storia di due donne che si ritrovano nella casa di riposo di Aiello, una come ricoverata e una come inserviente e nei rapporti giornalieri scoprono di avere un passato comune in fabbrica. E dal loro raccontarsi in tutta una serie di momenti si racconta la storia della mideria e questo evidentemente era uno dei nostri scopi, ma si racconta soprattutto la storia della vita all'interno della mideria e la vita di queste persone, di queste lavoratrici, ma soprattutto di persone, quindi con i loro sentimenti, con le loro problematiche, con le loro preoccupazioni. Però non posso andare oltre perché... Eh no, fermiamoci qua, fermiamoci qua. Sa però se ci sono già altre date programmate? Ancora no. Lo chiederemo allora a Carlo Tolazzi, vedremo. Senz'altro, senza altro. Abbiamo intravisto prima, Presidente, alcune immagini delle etichette dei prodotti della mideria a Chiozza. Dovremmo avere anche altre immagini, chiedo un aiuto alla regia, eccole. Queste immagini vediamo scritte in italiano ma anche in qualche lingua straniera che ci documentano appunto il fatto che questi prodotti venivano trasportati e esportati davvero in diverse parti del mondo. Sì, sì. Infatti abbiamo quello che passa dietro le mie spalle, per esempio, è un documento che forse vedremo in originale adesso dal collegamento in esterna. Ma queste sono alcune delle etichette dei prodotti che, come vedete, riportano scritte in diverse lingue. Ricordiamo che la mideria era una importantissima fabbrica all'interno dell'impero austro-ungarico ma dopo il passaggio al Regno d'Italia comunque continuò la sua attività di produzione e di esportazione in tutto il mondo. Mario Peresim prima ricordava che i prodotti arrivavano fino negli Stati Uniti ed erano considerati di grandissima qualità. Le etichette sono particolarmente interessanti anche dal punto di vista grafico. Ci fanno ritornare a tempi passati. Anche sull'etichette con l'Università di Udine si è fatta una tesi specifica per appunto studiare ecco questa è la classica donnina dell'immagine di Genicus, si chiamava così. La lingua non la conosco comunque. Ecco questo è un prodotto per il mercato di lingua inglese, Stark e l'amido in inglese. E qui vediamo il cervo, questo è il marco più famoso. Ma perché il cervo? Credo probabilmente perché si trovava a Cervignano, quindi credo che sia azzardo questa ipotesi. Una zona dove c'erano tanti cervi. Monica, c'è ancora qualche curiosità in attesa di... Ci sarebbero aggiornamenti di cronaca nazionale e internazionale. Andiamo con un flash proposto da L'Ansa. Armi ed elicotteri ai Reina in Libia, fermata a quattro persone. L'Ansa al momento non riporta dettagli, ma li riporta alcuni il Corriere del Veneto. Stando a quanto riferito qui, un'operazione della guerra di finanza di Venezia nelle province di Napoli, Salerno e L'Aquila ha portato dunque al fermo di quattro persone. I fatti sono riferibili al periodo 2011-2015. I paesi erano sotto embargo, quindi risulta questo rifornimento, questo traffico internazionale di armi e di materiale, dunque, di cui sono accusate queste persone. Riguardo poi ai fatti internazionali, ricordo anche questo titolo proposto dal TG Com 24, vediamo se lo troviamo, effettuato test balistico Iran, quindi l'ONU ha fissato per oggi una seduta urgente proprio a seguito del test missilistico che ha avuto luogo, appunto, che ha riguardato l'Iran ieri, in serata al portavoce della Casa Bianca. Ieri aveva affermato di non avere ancora informazioni sull'esatta natura del test, però oggi, quindi, ci sarà questa riunione, questa seduta urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E poi vorrei chiudere anche con questa informazione che prendo dal sito della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Oggi alle 14.30 è prevista una conferenza stampa alla Camera a Montecitorio per fare il punto sulle novità emerse sul caso di Ilaria Alpi e Miran Rovattin dopo la pubblicazione delle motivazioni alla sentenza di assoluzione per Ashir Omar Hassan, Lorusso e Giulietti che hanno detto chiediamo ai media di illuminare la loro storia. Anche questo un caso ancora da chiarire completamente. Siamo in chiusura perché sono le nove passate, purtroppo non siamo riusciti a mostrarvi le immagini dell'archivio, però il nostro Davide Zanerato assieme all'operatore Andrea Simeoni sono comunque all'archivio dell'Amideria Chiozza, gireranno alcune immagini che vi proporremo nell'ambito di uno speciale che dedicheremo appunto proprio all'Amideria e che riassumerà un po' la chiacchierata che abbiamo fatto oggi. Io ringrazio quindi il Presidente dell'Associazione Amideria Chiozza, Raffaele Caltabiano, grazie di essere stato con noi oggi, in bocca al lupo per l'attività della vostra associazione, grazie anche a Monica Nardini, a voi, a domani. alla regia di Fabio Di Bernardo, Emanuele Sergi, a tutti voi che ci avete seguito e ci vediamo domani puntuali alle 7 per una nuova puntata di Buongiorno Friuli. Grazie a tutti! Grazie a tutti!